Grazie Presidente, solo per chiederle che venisse messo a verbale, in maniera chiara e decisa quanto ha dichiarato poc'anzi l'onorevole Ricciardi, a cui vorrei lei riferisse, che si è appena denunciato, ha appena denunciato il Movimento 5 Stelle, di commettere praticamente un reato, perché sono due le cose. O l'onorevole in questione non conosce che gli organi terzi sono organi, sì, in cui la politica nomina delle persone all'interno di quegli ordini, ma che sono assolutamente indipendenti e quindi o non conosce la materia, ed è grave per un deputato della Repubblica, oppure ha appena confessato che tutti i componenti degli organi terzi indipendenti vengono automaticamente dal Movimento 5 Stelle messi per determinare posizioni politiche del loro capo di partito, cioè di Giuseppe Conte. E allora due le cose, Presidente, lo ribadisco, o non sanno cosa sono gli organi terzi, oppure hanno commesso un reato. E allora vorrei che venisse chiarito questo, soprattutto dai Movimento 5 Stelle, perché è gravissimo che un parlamentare della Repubblica dica che la Corte di Cassazione, perché ci sono nomi indicati dal partito, seguono le linee del partito. È una cosa gravissima quella che ha appena detto l'onorevole Ricciardi, Presidente. E vorrei che venisse messo a verbale, grazie. Non è che vorrebbe, c'è uno stenografico.